Il 9 e 10 maggio si tiene a Roma un importante convegno organizzato dal reparto di cardiologia dell'ospedale Grassi. Si parla di cardiologia digitale, in che cosa consiste? Applicare il digitale alla sanità ormai è fondamentale. Il sistema sanitario così come strutturato non è più sostenibile e quindi ha bisogno di introdurre la tecnologia per facilitare i processi di cura del paziente in un'ottica di cambiamento da una standard care a una smart care. Che cosa vuol dire questo? Cioè, introducendo la tecnologia possiamo semplificare altre cose, possiamo controllare meglio il paziente a distanza e quindi possiamo essere più appropriati. Possiamo rendere il paziente più consapevole della patologia e anche più aderenti alle cure. E gli possiamo proporre dei percorsi anche non strutturati ma appunto digitali, informatizzati, in cui il paziente viene assolutamente seguito. Alcuni esempi sono ormai dei sensori, dei dispositivi che permettono di rilevare a distanza una serie di parametri. Uno per tutti, per esempio, in cardiologia è l'elettrocardiogramma, per la diagnosi precoce delle aritmie e comunque di disturbi cardiaci. Altri sensori possono rilevare la pressione, il peso corporeo, la concentrazione di ossigeno nel sangue, la glicemia, alcuni parametri respiratori. Quindi questo si può applicare non solo alla cardiologia ma anche a pazienti che hanno più patologie come per esempio il diabete e l'insufficienza respiratoria. Questi dispositivi possono essere semplicemente indossabili, possono essere portati in tasca o nella borsetta oppure possono essere impiantati sotto la cute e su questo noi abbiamo una grande esperienza perché sono anni che seguiamo i pazienti portatori di pacemaker e defibrillatori a distanza. La sanità digitale poi significa anche big data, significa per esempio mettere, fare un archivio dei pazienti, stabilire una cartella clinica informatizzata e significa anche connessione. Noi abbiamo intenzione di fare una connessione con i medici di famiglia per permettergli di vedere gli esami dei pazienti che sono stati ricoverati dal loro studio, ma l'altra innovazione che ci permette poi di continuare a seguire appropriatamente i nostri pazienti è l'ART-team che facciamo appunto per via telematica con il Policlinico Gemelli dove noi presentiamo insieme a loro, mentre loro si riuniscono e fanno il loro briefing quotidiano, presentiamo i casi studiati da noi che hanno bisogno della cardiochirurgia, li discutiamo e in base alle indicazioni che ci danno i pazienti vanno ad operarsi oppure rimangono da noi per fare le cure che noi possiamo fare. Quindi abbiamo creato un continuum di tipo clinico. Queste sono solo alcune applicazioni che si discuteranno all'interno di questo congresso il 9-10 maggio all'Ergife e praticamente una prima parte si tratterà proprio della gestione delle arittemie e comprende il congresso dell'Associazione Italiana di Arittemologia e Cardiostimolazione della sezione laziale. Poi successivamente ci saranno delle interessanti tavole rotonde, alcune di carattere istituzionale, con figure istituzionali, ma la seconda giornata sarà tutto su temi di cardiologia, le grandi sindrome di cardiologia viste non da un punto di vista strettamente clinico, ma viste da un'angolazione diversa, cioè come il digitale può aiutare a gestire meglio queste patologie, perché secondo noi utilizzando il digitale si possono ottenere dei risultati migliori in termini di aderenza alla terapia dei pazienti, maggiore consapevolezza dei pazienti, un contatto ancora più stretto col paziente anche se immediato dal digitale e anche semplificare alcuni percorsi che adesso sono farraginosi. Quindi la sfida è una sfida interessante, di questo se ne dibatterà, soprattutto si dibatterà di idee volte a creare delle applicazioni che facilitano il miglioramento della gestione del paziente che viene ricoverato al grassi.